Eh, ma lui? Non c'è la prima. Lo giuro, non sono così ciecato. Fico! Eh! Ah, sì. Non ci ho ancora parlato con lui. Che cosa sta facendo là sotto? Un bel seghino e si va a letto? E parla? That is a sacred relic of the Black Knight's plot, as that famed night of assassination is not. It happened during the golden age of the Wood Tree, long before the shattering of the Elden Ring. Someone stole a fragment of the rune of death from Malekith, the Black Relay, and on a bitter night murdered Godwin the Golden. That was the first recorded death of a demigod in all history. And became the catalyst. Soon the Elden Ring was smashed and thus sprang forth the war known as the shattering. Ah, ecco. Oh. Chi è questa? Ah, non è più il cappuccetto rosso. Niente. Non è più il cappuccetto rosso. Non è più il cappuccetto rosso, non è più il cappuccetto rosso, non è più il cappuccetto rosso. Non è più il cappuccetto rosso, non è più il cappuccetto rosso, non è più il cappuccetto rosso. E' che gli hanno fatto il culo. E' hanno fatto il culo gli amici a P3 a questo. A Valier Limiere. Addirittura. E' un NPC. Un tizio con lupo. Capanna e lupo dormiente. E' l'Anea? E' l'Anea? Ok. Un momento ora costa. Quinte pali combo. Non fa maledizione. Oggi sono scarsissimo, mi sa. Ma io proprio, io. Oltre al fatto che faccio 6 di danno a chiunque mostro, ma vabbè. Chi ne sapevo che era la presa. Oh, ma basta. Poi arrivo qua. E muoio in continuazione. Esatto. E muoio in continuazione. Stavo scherzando. Ha fatto una serie di combo infinite. Oh, il veleno. Guarda quanto dura. Questa tizia è molto inquietante. Non serve di qualcuno. Ha rubato una collana da un senza luce che potrebbe essere anche Patches. Non sono mai più tornato alla caverna di Patches. Raya Lucaria. Comunque questo telescopio non ha molto senso. Non ho ancora ben capito come faccia. Si alza in alto, in qualche modo. Ecco l'albero. Oddio, quello è l'albero in realtà. Questo è un altro. Un albero minore. Lassù. C'è un lassù. Grande tempesta. Festa. Questi sono proprio nuovi nuovi, eh. Fanno il simbolo tipo... Fanno il simbolo strano. Oh, fiamma. Alzati, oh, fiamma. Discesero dalle vette dei giganti nel lontano nord, comunque, eh. Questa torre... Roba d'astrologo. I stalli. C'è un sopra. Il sopra c'è. Eccolo qua, il sopra. C'è anche un sotto. Eh, no. Vaffanculo. Eccoci al sopra. Comunque, questo gioco pare che abbia fatto mettere i fantasmi a buoni punti in cui sono più utili, in realtà. Come ha fatto questo amoris e buttato di sotto. Arrivederci. Piedra della memoria, piedra della memoria. Aumenta il slot di memorizzazione. Cazzo era quello. Albero madre minore. Ho paura di guerrieri... Guerrieri tazza. Avatar dell'albero madre. Avatar dell'albero madre. Domina tutto, lui. È come il cessione del crogiolo, solo che... È curato. Non domina solo la terra, domina tutto, lui. Lo sapevo che faceva l'attacco dopo, ma... Che cazzo è? Nooo, la fase 2, cioè. Pensavo fosse solo un attacco nuovo, invece era proprio la fase 2. Ottimo. Eeeh, finale scenico. Per potenziare la mia asca, che è palia, ancora sto a 2. Lacrima. Sai perché non c'è l'avatar là? Perché questo si troppa... Ci sta un punto in cui troppi 3 lacrime. Esatto. Per quella... Per quella... Per quella balsamo che non... Che non ho io ancora. C'è stata la rosa? Cos'è? È tipo una specie... Seguace di rinno del sangue. Infatti la rosa. Male, male. Dall'altra parte? Perché mi ha fatto... Vabbè. Non faccio domande. C'è lui? Allora, fare le invasioni potrebbe fottere le quest. Potrebbe fottere alcune quest dell'Ordine Aureo. Però... Sono online. Posso farlo. Sono morto. Ah, posso essere invasato solo in coppa. Quindi ecco perché ero lì in due. Vabbè, allora vaffanculo. A parte questo che cazzo di... Un elmo assurdo, quello. Non reagisce. Sto adendo per vincere una battaglia. Per avere le reazioni da parte sua. E uno contro due quando ce la faccio. Comunque sono belle le miniere che sono potenziobili. Ahia, qua muoio. Ahia. Ahia. Ma non muoio se. Guarda quante frecce c'ho addosso. Cristalliano. Bayblade. Boyblade. Bayblade. Non gli faccio danno. Bayblade. Perché non gli faccio danno? C'è la meccanica. Ello? Ok, con riposta gli si fa danno E anche quell'attacco di... Ma l'abbiamo rotta? L'abbiamo rotta e quindi... Visivamente non era rotta, però una certa ha preso danno Globo ucciderio! Io non credo sia effettivamente un nemico questo, però O magari è pure un boss Ah, guarda, c'è tutta una processione Vodo Che devo fare col mostro dell'errante? Non c'è più guardia Bisogna salire fino lassù E poi mutarsi Bisogna aspettare che... Ci bisogna aspettare che lui va da là Per poi buttarsi Per poi buttare che lui va da là Per poi buttare che lui va da là Ok No, come? Stai scherzando? Sta crollando E' crollato Ora si apre Perfect Menù duplicazione e rimembranze Ok, qua sarà chiuso Per cui serve andare Circa tre animali saggi La tartaruga Quindi non si poteva andare avanti Fino a che erano attivato il trappolone Quello non è un trozzo invece Oh, l'ho vista di Cristo Era un suo albero Ma sono proprio sbagliato Piedra d'armonia Caverna cristallina dell'accademia Ok Quindi c'è Un settore perduto Sbloccabile solo con la Con due chiavi di pietra Oh, che cazzo sono? Aia No, si telepippano pure con la Bakris Sono morto Mi ha shottato Si è autointerruttato Si è autointerruttato Cascando lui Vabbè Allora questi hanno Molta resistenza Devo tipo Rompergli la guardia Perché sto usando La blu torcia Se questi cristallini Fin quando gli rompi la guardia Non prendono danno Ora comincio a prendere danno Tipo Perfect No, hanno fatto il ripost Ok, ce l'abbiamo fatta Tutto grazie agli amici Gli amici che hanno distratto il mago Sono stati fondamentali E soprattutto fortissimi Che ci sono resistiti tantissimo Adesso sto finendo Dentro l'accademia Sì Adesso ho una cassa in più Solo poi Terra Magicus Che altro Per poter esplorare questo Con calma Dovrei ammazzare quello Forse con la balestra Mamma mia Tutto questo per Cosa Cosa Questa è la prima Parete illusora Del gioco Ci potevo arrivare A intuito C'è anche il messaggio C'è anche una mezza strada Qua Ovviamente si sono riusciti a Stradire lo stesso E tanto la parete illusora Dall'alto lato Non è Non è vista come parete Mi faccio abbastanza Tanto comunque Di spada Dall'alto di scintipietra E amici Non è che stanno facendo Tanto Oddio No 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 Lala Dai Se ne basso l'emo Fa la fiammata Dai Dai Sta a poti bloccando No L'ultimo colpo Posso prendere Non ci posso credere E va uno di vita Ti prego Ma se ne sentava la vita E' impazzivo Cioè Mamma mia E abbiamo la chiave Oh no Questo è il tizio Che ha rubato Ah no Lui è quello di Lania 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 no Lo facciavo Ovviamente Ovviamente Eh lo sa te Qua c'è anche una galera Quanto sarà tosto Questo Non ho mai più riprovato Sino del crociolo Adan Ladro del fuoco Oh no Big boy Oh no Electrode Ma che ha fatto Ma perché ha fatto Questa cosa Ma povero Mi dispiace Arganti Gran costruzione della fiamma Tentò di tenere segreto Questo incantesio Adan Riuscire a rubarne il potere Il Ducaduto Si annida Ancora oggi Tra il gigante di fuoco Horaci Albinauri Veramente Fanno super pena Mercante Nefeli Lu Che dicono loro Niente Ne fai riluse Vecchio albus silente Nascondite e trattieni il respiro Ci sarà Albus Silente da qualche parte E vedi senti qualcuno suonare Aveva un nemico Ma che cazzo Sekiro Oh cazzo Sono morto Che cazzo era questo Poi suonava il flauto Poi spara sta Sticoriando gli esplosivi Basta con i messaggi porta No Albus Silente? Sacro albero di Michela Ok quindi la leggeta parlava di lui La leggeta parlava di lui Che schifo Ammassa presaggi Dai cazzo Sono forti questi Ma questo è proprio la easy mood Talismato noto del crogiolo What? Crescenza di corpo umano Risalente a un lontano passato Traccia del crogiolo Della vita primordiale Questa Roma di involuzione Era un tempo assinato al divino Con il proprietario della civiltà E l'esempio disprezzata Per la sua natura impura Ah ma c'è Patches Ma che pare Quanto so scemo Ho mancato una cosa importantissima C'è Patches Si Di solito E' 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 L'academia di Rhea Lucaria Sui potenti transposizionali Quattro intattati E' 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 Vedi serve mettegli uno in segreto Lei è la tenna Ok Albinaura più in forma di tutti Quattro intattati Quattro intattati Quattro intattati E' 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 Quattro intattati Quattro intattati Grazie a tutti.